Per i Backliners non è uno scherzo, è tutto vero. Noi qui abbiamo con noi tre dei rappresentanti di un nuovo gruppo che si chiama Tua Madre. Esatto Marcella, noi siamo i Tua Madre, veniamo da Genova e veniamo per voi e per voi solamente. Allora, un'intervista seria è un po' difficile, però proviamo a parlare della genesi del vostro gruppo e soprattutto la musica. Che cosa fate? In principio era il verbo, noi di solito iniziamo in questo modo, infatti erano le madri che hanno generato ognuno di noi, ma noi facciamo ska, rock, steady, blue beat, veniamo da Genova. La musica è frizzante, come frizzanti sono i nostri costumi, ma ti devo dire Marcella che noi durante i nostri show non facciamo solo banane che portano molto potasso e questo è veramente positivo, ma ci vestiamo in tanti altri modi, ad esempio da ballerine, da animali, da supereroi, da marinai, da frati, ne abbiamo veramente di tanti tanti tipi e tanti colori. Il messaggio? Il messaggio è sempre quello. Bene. Ok, aspetta, prova a presentarmi ai ragazzi. Sì, allora loro sono le due guardie del corpo, alla mia sinistra ho Stanislao, che viene dalla Russia. Io dalla Russia è arrivato, no, in realtà no gruppo, no gruppo tua matca, io ho aggiunto per sostituire vecchio Tassirista. E per la nostra sicurezza e per l'incolumità da Bagdad abbiamo Ali. No, ehm, ah. È meglio non chiedergli perché potrebbe dire cose sconcertanti, ma una cosa ve l'abbiamo da dire ragazzi e ragazze e ogni altro tipo di creatura che ci stia seguendo. Se voi andate su iTunes, e sapete cos'è iTunes, non è una domanda, iTunes, va tutto insieme, eh, vabbè non sto adesso a spiegare tutto. Trovate Up and Down, Su e Giù, che è il nostro primo singolo originale, è un brano molto fresco, parla di estate, parla di storiacce fra il tipo e la tipa. Lui che vuole andare al mare con gli amici, invece si ritrova catapultato in mezzo a dei mobili con la sua ragazza e la famiglia di lei, che è gente che nessuno vorrebbe mai incontrare. Andate su iTunes, cercateci su tuomadre.it o su Facebook, tua madre è tutto attaccato perché è un concetto di tua madrità e non è invece un'imprecazione. E cercate Up and Down, scaricatelo per soli 99 miliardi di centesimi di euro. Sono una forza, li vogliamo in diretta a Backliners, grazie. Ciao, prego.